La AMG SRL è nata nel 2007 in seguito al conferimento del ramo d'azienda lavanderie dominio da parte di AMOS SPA. Nel giugno 2008 la proprietà di AMG è passata da AMOS a due aziende leader nel settore della lavanderia industriale, Servizi Italia SPA e Servizi ospedalieri SPA. Il core business dell'azienda è il servizio di Lavanolo. Il servizio consiste nel dare a noleggio ai clienti gli articoli di proprietà di AMG biancheria piana, lenzuola, federe, coperte, tovaglie eccetera, biancheria confezionata, camici, divise per personale ospedaliero, vestiario in genere e materasseria, materasse e cuscini, gestire il ciclo di lavaggio e stiratura, consegnare, ritirare ed in alcuni casi gestire il guardaroba. Al fine di garantire ai propri clienti un livello qualitativo prestabilito della biancheria a noleggio, AMG si occupa della sua manutenzione ordinaria e o sostituzione in caso di necessità. Lo stabilimento è organizzato secondo moderne tecniche gestionali con lo scopo di ottenere efficienza impiantistica e ottimizzazione della mano d'opera nel costante miglioramento della produttività. Grazie a tutti. La AMG è in possesso della certificazione UNI-EN ISO 9001-2000 e delle certificazioni ambientali UNI-EN ISO 14001 e 14065RABC. Recentemente la AMG si è adeguata alle prescrizioni indicate dal decreto legislativo 231-2001 nominando un organo di vigilanza costituito da un membro esterno alla società, adottando un codice etico ed un modello di organizzazione, gestione e controllo delle attività aziendali sulla base di valori di efficienza e correttezza.